Buongiorno a tutti, oggi ci troviamo con il dottor Fabio Moro che è un podologo di estrema fama e competenza e vorremmo porgli qualche domanda relativa al corso che terrà presso la nostra sede a febbraio Ciao Fabio e benvenuto intanto Ciao Boris Grazie di aver accettato Onorato, onorato Boris Ascolta, negli anni tu hai sviluppato e ottenuto grandi risultati in ambito posturale con l'utilizzo delle tue solette Negli ultimi tempi c'è stato una sorta di paradigma, di cambio di paradigma nella tua visione del mondo o meglio una comprensione ulteriore che ci ha spostato da un paradigma verso un altro grado di conoscenza della questione e quindi hai posto la tua attenzione al mondo dell'energia e della medicina classica cinese Ora, prima di parlare di questo Posso interromperti, Boris? Certo Così magari l'estemporaneo qualche volta è meglio del costruito Perché a un certo punto uno decide di spostarsi su un altro paradigma Quello che si chiama scivolamento di paradigma Paradigm shift Perché il rapporto tra l'osservatore e il sistema osservato Crea un circuito ermeneutico ineluttabile Perché più l'osservatore studia il suo sistema per tanti anni documentandosi Sperimentando clinicamente, consultando bibliografie Beh, è ineluttabile, caro Boris, che apra nuove sinapsi a livello neuronale Nuove ramificazioni Quindi questa struttura, questo strumento, questo cervello Con il quale lui osservava quel sistema Nel corso del tempo si modifica E' come se modificassi le lenti dei miei occhiali Mi sono spiegato Quindi col tempo Tu ineluttabilmente cambi il sistema Perché il sistema ha cambiato te Quindi questo è un percorso senza fine D'accordo? E allora Nel rapporto con un sistema complesso Come quello del sistema tonico-posturale Dove ci sono queste entrate posturali I cinesi le chiamerebbe orifizi L'occhio, la bocca, la pianta del piede Ecco In questo sistema così complesso Tutti i supporti e le certezze Che ci ha fornito la scienza classica Si vanno un pochettino a disintegrare Mi sono spiegato E quindi sei alla ricerca E ti apri ad una epistemologia della complessità E quindi ti vai a interessare della teoria generale Dei sistemi, della cibernetica Della fisica a livello quantico Dove l'osservatore è molto importante Come tu sai L'osservatore può anche contribuire a modificare il fenomeno che sta osservando Ebbene Avvicinandoti un attimino Alla filosofia E alla medicina cinese Soprattutto quella antica, classica Quando c'era ancora una metafisica Quello che la scienza classica Ha messo nell'obiettivo La distruzione della metafisica Galileo Non si chiede più Perché un corpo è attratto Verso il cielo della terra Con un moto uniformemente accelerato A lui gli interessa il come Il perché Viene messo in un cassetto Mi si è spiegato Ecco E allora per esempio Io e te qui stiamo parlando Attraverso questo sistema Che per me è così Diciamo sconosciuto Il computer Questo computer qui ha un linguaggio Come tu sai Che è un linguaggio binario Uno e zero D'accordo? E' quello che si chiama Il calcolo Booleano Dall'ingegner Boole Che poi con i microprocessori Di Fagin Sono arrivati a costruire Questo ordigno qua Infernale Ma Non è Boole In realtà Che ha inventato Questo calcolo binario Il vero ideatore E' stato Leibniz Il filosofo contemporaneo Di Newton E a Leibniz Chi gliel'ha data L'imbeccata Padre Grimaldi Un gesuita Che veniva dalla Cina Che gli ha detto Guarda che i cinesi Spiegano tutto Con una linea Intiera E una linea spezzata Lo yin e lo yang D'accordo? Ecco Con cui ci fanno i trigrammi Gli esagrammi Su questo computer Che ho qui di fronte Ci sono ancora i 64 esagrammi Dell'I Ching Non lo so se può essere Introduttivo Quindi questi avevano detto In una maniera ben precisa Quello che noi oggi Balbettiamo D'accordo? Ecco Tutto lì E' una sorta di Magari non è espresso Correttamente Però in questi termini E' come dare un senso A tutto quello Che abbiamo sviluppato Noi oggi Quindi è una sorta di cerchio Che si chiude E' un riprendere le origini E andare alla comprensione Delle origini Alla comprensione Di quello che oggi C'è Nello sviluppo Nella risposta E nell'osservazione Di come funziona Un sistema E certo Come il sistema biologico Per esempio Visto che L'incontro che faremo Sarà soprattutto In ambito osteopatico Ebbene Come siamo abituati A pensare noi In ambito Osteopatico Posturale In termini di Catene Queste catene Miofasciali Queste Queste linee Di forza Attraverso le quali Si esprimono Le forze Organizzatrici Del corpo Ebbene Questo comunque Sia E' un concetto Ancora meccanico Questo concetto Di cinghia Di trasmissione Di puleggia D'accordo Quando E arrivano E arrivano al piede Partono dal piede E arrivano Alla bocca Partono dalla bocca E arrivano al piede Allora tu dici Porca miseria Occhio Piede Cielo posteriore La chiamano Quella del nutrimento E allora Se tu metti in relazione Questo meridiano Con quel sistema Odonto stomatognatico Posturale Vai a favorire I soffi In questo meridiano Dove non scorrono Per quella problematica E a livello posturale Vedi Dei restauri In armonia Incredibili Proprio clinicamente Mi sono spiegato Così per esempio Per quanto riguarda L'occhio La vescica biliare D'accordo Che parte Da vescica biliare Uno Tonzigliao D'accordo E poi scende Fino giù Seguendo il solco Tra quarto E quinto Metatarso Per arrivare Alla punta Del quinto dito Del piede Con una traiettoria Dall'alto In basso A zig zag Proprio perché È definito Dai cinesi Cioè Avanti e indietro Avanti e indietro Fino ad arrivare Al piede È definito Dai cinesi Il meridiano Dell'indecisione Tu hai presente L'asino di Buridano Che muore di fame Perché non sa Quali dei due covoni Deve iniziare A pasteggiare D'accordo Mi sono spiegato Quindi vedi Ci si sposta poi Da un linguaggio Logico Deduttivo Ad un altro tipo Di linguaggio Analogico Simbolico Perché questi usano L'altra parte Del cervello Noi usiamo L'emisfero sinistro Questi il destro Invece lo usano Molto Noi ce l'abbiamo Completamente atrofizzato Questi antichi saggi Invece L'utilizzavano Molto bene Quanto doveva durare Queste interviste Poi No no Il tempo necessario Perché Se mi fai partire Alla logorrea Poi dopo Ci mancherebbe Per ritornare Un attimino A quindi A dare due indicazioni Facciamo dei passi indietro Rispetto all'aspetto Filosofico Poi L'aspetto Pratico Ad esempio Per gli osteopati Che desiderassero Partecipare Ho riscontrato Collaborando Con te Ormai da anni L'efficacia L'integrazione Del sistema E poi Soprattutto Un livello Di comprensione Dal punto di vista Corporeo Di quello Che accade Di come creare Le condizioni Affinché Il paziente Possa stare meglio O stare addirittura Bene Quindi L'integrazione Del Del Tuo ragionamento Io dico Il tuo ragionamento Perché sei tu che sei arrivato A questo ragionamento Pur essendoci Da millenni Ok La forma Boris La forma E Tornando All'anti Aristotelico Galileo Riguardo All'accezione Del concetto Di causa Per Galileo Causa È quella La quale Posta Segue l'effetto E rimossa Si rimuove L'effetto Aristotele Che invece Di guardare Gli astri Si studiava Gli embrioni Di pollo In biologia La sua Accezione Del concetto Di causa Era molto Più ampia Di quello Di Galileo Perché Mentre Galileo Era nel mondo Degli astri Aristotele Stava in un mondo Sublunare Quello della vita Della biologia Quello che i cinesi Chiamerebbero Il cielo posteriore Dopo la creazione Dei nomi E delle cose E quindi Aristotele Vedeva una causa Materiale Una causa Efficiente Che corrisponde Alla forza Di Galileo Una causa Finale Quindi un progetto Un principio Teologico Che nella scienza Non se ne può parlare Perché sennò Allude A qualche cosa Di metafisico E poi soprattutto La causa Formale Ora Questo concetto Di Xing Dei cinesi La forma E il cinese Diceva Che Quello Il medico Che Ascolta I polsi Palpa Interroga È un buono artigiano Quello che guarda E capisce È puro spirito È effettivamente Osservando una persona In piedi Solo vedere Per esempio Le bascole Del bacino E delle spalle Se sono Controlaterali O domolaterali Già ti rivela Tutta la sua storia Se sono Omolaterali Andrai a cominciare Dal meridiano Di vescica biliare Se sono Controlaterali Ti interesserai Dimmi il sastomago Quindi L'interfacciarsi Con questa Causa formale Nella clinica È fondamentale Fondamentale Tu Che Hai Già visto Hai già Lavorato Un po' con me Già un po' Hai toccato Con mano Su questa cosa Perché la conoscenza Fui fondamentalmente È questo Non è un puro fatto Intellettuale Per avere Una coscienza Bisogna avere un corpo Perché se non hai un corpo Tu non puoi avere Coscienza di nulla Un cervello Dentro una vasca Non ha mai Baciato una ragazza Non ha mai Mangiato Un piatto di carbonara Mi sono spiegato Non ha mai gustato Un buon vino rosso Che coscienza Di che cosa Deve avere coscienza Se non hai un corpo E allora Questo corpo Ti serve per alzare Le chiappe Dalla sedia Girare attorno All'oggetto Che stai osservando Mi sono spiegato E certo E averne una comprensione Esatto Esatto E poi poter Poterci interagire A questo punto Ti pongo le domande Che Sì In parte Hai già risposto Però Facendoti queste domande Faremo un po' di passi indietro Rispetto a quanto detto Ora Parlando in senso Anche pratico Di poi Quello che accade Nel tuo lavoro Cioè La tua soletta Vista dall'esterno Sembra informare Il sistema corporeo Su tre livelli Ora Questi livelli Li potremmo definire Come le informazioni Tipo proprio Cettivo Questo è fare Lo so Fabio È fare un discorso indietro Rispetto alla questione Energetica Di cui stiamo parlando Un'informazione Tipo frequenziale Forse anche Di tipo elettromagnetico E Duna Quella Che in realtà Probabilmente Le congloba tutte Quella legata Ai meridiani Di medicina Ok Sì La risposta fondamentalmente A questa domanda Era Gianna Continua la parte iniziale Che quando tu lavori Osservando A un certo punto Devi porti altri interrogativi Ed è così Sei arrivato A lavorare L'ortesi In questi Allora Cerco di risponderti Siccome Quando ho iniziato A lavorare così Con questa solettina Così sottile Trent'anni fa Capisci Non solo Creavo disagio A chi doveva comprendere Ma avevo disagio Anch'io Perché Nel concetto Meccanico Capisci Più forza Ci metti Più risultato Tieni In realtà Oramai Lo sappiamo Piccole differenze Nelle condizioni Iniziali Possono Generare Grandi effetti Nelle condizioni finali Questo l'ha detto Henri Poincaré Come matematico Nel 1906 Siamo nel 2024 Vedete che ancora dobbiamo fare i webinar Per Sufragare questo concetto Il battito d'ali Della farfalla Nel Texas Crea il tornato Allora Quindi Se utilizzi piccoli spessori Se utilizzi piccoli spessori Non è perché sei ligure Vuoi risparmiare sul suo Dietro c'è un concetto D'accordo Fisico Epistemologico D'accordo Poi Come tu sai Oltre quei due spessorini Che sono messi Ai lati Del piede Allora C'è anche un qualcosa Che è quel quadratino davanti Che quel quadratino davanti È la parte Se vuoi Che risponde alla tua domanda L'elettromagnetismo Ma Scendiamo A parlare Prima dei due spessorini Quello interno Quello esterno Tanto per cominciare Lì all'interno C'è Il meridiano del rene Là All'esterno C'è il meridiano Della vescica urinaria Uno è Yang E uno Yin Eh Lo Yang È la fiamma Che sale Verso l'alto Lo Yin È l'acqua Che scende Verso il basso E si E penetra Ogni cosa Ma Per chi conosce Oltre i Jing Mai Della medicina tradizionale cinese Quella dopo Mao Zedong Che ha compiuto Un'opera Di desacralizzazione Di questa Di questa Scienza sacra Gli ha Praticamente Gli ha strappato L'aspetto metafisico Dalle viscere Oltre questi meridiani Che poi A un certo punto Sono diventati I punti Seguono una logica Algoritmica No Questo punto Per quel problema In realtà Non è così Gli antichi cinesi Avevano una tale idea Gestaltica Oserei dire Dell'agopuntura Che questo punto In questo contesto Ha una funzione Assieme ad altri punti Ne ha completamente Un'altra Quindi Quei due spessorini In realtà Lavorano su due meridiani Curiosi Che sono i Ciao mai Lo yin E lo yang Ciao mai D'accordo Il quadrettino Che c'è davanti Quel quadrettino Che tutti Hanno Copiato Hackerato In realtà È un microcircuito Oscillante Passivo Ma se è passivo E tu vai al Politecnico Di Torino Allora ti dicono Non può avere nessun effetto Perché non ha una carica Non ha un'alimentazione Se tu gli dici Ma no Ma guarda Io le faccio vedere Che ha un effetto Ah Ti dicono Lo so già L'ho già visto Questo effetto Però io Come ingegnere Positivista Le posso dire Non le posso dire Che ha un effetto Perché è passivo In realtà L'acqua È una bomba Elettromagnetica Che carica Questo microcircuito Passivo E noi Siamo fatti Di acqua Boris Quindi quella cosa È passiva Finché tu non lo metti Nella soletta A contatto Del tuo piede E allora Non è però Una risonanza Che io voglio Mandare al sistema È che quel quadrettino È messo In un punto In un punto Che è L'entrata Del Chong Mai Un altro Meridiano curioso Che è chiamato Il meridiano Dei meridiani D'accordo? Quindi quella soletta È molto stupida Per gli stupidi Quando uno invece Toglie tutti gli strati Di inconsapevolezza Vedi che è molto È molto meno banale Quello che Quanto tu l'avessi Banalizzata In precedenza C'è un Un discorso Profondo E lunghissimo Da fare Quello è quello Che cercherebbe Di fare Con i tuoi Osteopati Interessati Bene E quindi A questo punto Tu come Come ci aiuteresti Nell'integrare Le tue conoscenze Con la nostra pratica Quindi parliamo Anche un po' Del programma O Come Svolgere Come si svolgeranno Questi tre giorni di corso Saranno Molto intensi Sì E molto ricchi di pratica Da quello che Sì Perché se non facciamo La pratica Cioè Rimbalziamo Certo Ma ci Ogni concetto Bisogna andare a toccare Con mano E verificare Perché Avrei difficoltà Anch'io a crederci Mi sono spiegato Quindi Si esprime il concetto Scusami tanto Si esprime Si esprime il concetto E E poi si va a toccare Con mano Per esempio Parliamo Della vescica biliare Dell'occhio Della problematica Occhio Allora È periferica Andiamo a lavorare Sul meridiano Di vescica biliare Che governa l'occhio È una problematica Più centrale Cosa che vedi In postulologia Non se ne parla Ma Se tu hai avuto Un'encefalite Una meningite Un trauma cranico Le lesioni Possono essere anche Sul chiasma Sul nucleo genicolato Mi sono spiegato Sulle aree visive stesse Allora lì Ti devi rivolgere A dei punti Di riunione Degli yin Che sono molto Più profondi E quindi Bisogna differenziare Tra problematica Periferica E centrale E quindi Si va a verificare Come si esprime Un concetto Si va a toccare Con mano In fondo Non è mica necessario Pungerlo Il paziente Andiamo per cominciare Io non sono Un agopuntore Né mai vorrei Esserlo Un agopuntore Vorrei interessarmi Di postura Ma La postura E l'osteopatia Hanno molto Da prendere Da questo concetto Energetico E poi tu sai Basta una piccola Sferettina Piccola Così Sul punto Se è precisa Tu vedi delle cose Gigantesche E questo ci può aiutare Sia può aiutare Il paziente Perché possiamo Somministrarlo Certo Accompagnarlo Per un certo periodo E anche nella Valutazione clinica Quindi Nella valutazione clinica Puoi avere La gerarchia Dei sistemi Anche se tu sai In una mente Nel concetto Beisoniano di mente Una parte Non è prioritaria Rispetto alle altre È solo Per un percorso Terapeutico Che tu devi sapere Dove ti conviene Cominciare Se da un recettore Piuttosto che da un altro E anche nella Pratica osteopatica Alcuni blocchi Che so Il blocco del diaframmo Un blocco del coccige Del sacro Una Uno psoas Inconcentrica Possono essere Degli ostacoli Al tuo lavoro Tu vai a toccare Alcuni punti E hai lo sblocco Senza manovre meccaniche Anche questo Se io te lo dico Ma tu non lo verifichi Io personalmente Non ci crederei D'accordo A me è toccato Crederci Ok E quindi Prima Si dà una lettura Secondo la medicina Tradizionale Cinese Dove la cosa Non funziona Si ricerca Il blocco Quindi La seconda parte Lo studio Dei blocchi A questa riprogrammazione E una terza parte È arrivare Ai meridiani curiosi Però I meridiani curiosi Ahimè Se tu non Non hai Il concetto Filosofico Di Di vuoto Perché per i cinesi Il vuoto È la base È quello Da cui Tutto nasce Nella nostra cultura Manca Ti dicevo prima Quella Quel breve Aiku Quel breve Aiku Quella piccola Non si possono neanche Chiamare poesie Sono delle immagini Vorticiste Di questi Questo Basho Questo Antico scrittore Di Aitura Antico poeta Dice praticamente Vecchio stagno Tonfo di rana Suono d'acqua Ecco noi Siamo talmente Imbevuti di logica Che andiamo a cercare Il soggetto Ma Vecchio stagno Tonfo di rana Suono d'acqua Qual è il soggetto Non c'è il soggetto Non c'è il predicato Verbale Non c'è il complemento L'autore stesso Il poeta Non compare Neanche lui È nel vuoto Nascosto D'accordo? È nel vuoto Non è che non esiste È nel vuoto E quindi Se tu A questo A questo poeta Gli dovessi chiedere Come te la passi In questi giorni E lui che cosa Ti risponderete Dopo le piogge Di questi giorni Il mustio è cresciuto Più verde che mai Mi sono spiegato Ecco Dobbiamo capire Che esiste Un'altra logica Oltre alla nostra D'accordo? Ecco I meridiani curiosi Sono i meridiani Più antichi E che lavorano Terribilmente Sulla costituzione Quindi Quando poi si arriva Ai meridiani curiosi Si ha un'altra lettura Ancora più profonda Di come questi agiscono Sui soffi Che regolano Il tono Posturale D'accordo? Perfetto Fabio Ti ringrazio Per il tempo Che ci hai dedicato E sei stato Per ora Boris È solo un delirio D'accordo? Poi prendi la forma Durante il corso Va bene Ti ringrazio Boris Grazie a te Fabio Ciao Ciao a tutti